ciao ragazzi come state? spero bene allora io sto bene e a parte questa situazione ho dovuto smontare il sostegno del microfono perchè dopo un anno questi microfoni non capisco perchè perdono la loro potenzialità infatti se notate io metto sempre su ear to ear perchè è l'unica che può fare magari anche un intenso whisper tutti gli altri e vabbè allora prima di parlare del video di oggi voglio innanzitutto ringraziare i 144 iscritti del mio secondo nuovo canale vi dito scusa se vi ho fatto un po' trippolare ma avrei dovuto smettervi il link in descrizione però non ho fatto un video qua quindi erano un po' problemate quindi grazie con i pagini cosa ho pensato? che si potrebbe fare un giveaway particolare con le regoline del giveaway siccome ogni canale richiede comunque inizialmente un sostegno e io ho fatto quel nuovo canale inaudibile per te 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 che lo ami allora ti ho fatto un'altra persona di vostri 3 trigger preferiti questo cosa vuol dire? vuol dire anche che dovete segnalare se lo volete nei vostri trigger rientra il parlato o non il parlato durante il video, poi userò il programma come si usa di solito che ti dovrebbe essere rando.org dove ci sarà un'estrazione vincitore, vincerà un video di 20 minuti dedicato al vincitore, dei suoi 3 trigger preferiti, poi sotto vi dirò il termine ovviamente di questo Kiva Vestrone, ecco, ci tengo a precisare che anche quelli già iscritti possono partecipare a questo, quindi ricordate però, andate nell'altro canale, io vi lascio sotto il link e vi lascio sotto il link, fate prima l'iscrizione e poi fate il commentino, ah sì, di Naudibili, non è uno dei vostri preferiti ma se mi volete sostenere, l'altro non costa niente, invece per chiamare Naudibili, fratti, chiamano Naudibili, così anzi sto pensando se vuoi spostare l'indepal video di Naudibili in quel canale in modo, dato che non avevo ancora fatto una playlist in modo che poi quando la faccio non ci sono gli Naudibili, e vi li potete trovare nel secondo canale senza pubblicità, senza interruzione, ok? Quindi fatemi anche sapere se siete chi parteciperà, chi è d'accordo, vi lascio comunque un link, state tranquilli, bene? Allora direi di iniziare con il video, il video è un video tag che avevo promesso tanti mesi fa quando non mi sentivo di farlo, questo video è stato ideato dalla Greta ASMR, ciao Greta, brevissima e l'ho trovato molto molto carino e mi sono stata attaccata, legata, purtroppo l'ho potuto fare al tempo, da un collega che penso che conoscete tutti, che è Dito ASMR, Dito, un pagino, ok? Io direi di iniziare con le domande, per non darvi il fastidio con gli occhiali, userò la lente per leggere le domande, perché lo sapete che sono presbite e la mia presbiopia ultimamente peggiorata, vabbè. Allora iniziamo, vedrò se posso farvi qualche trick durante, perché ho una mano sola. La prima domanda, la prima domanda reggita, qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli? Allora, dunque, veramente io penso due cose. Una molto più profonda, è l'altra più profonda, è l'altra più profonda. Allora, parliamo di quella più profonda, quando mi sveglio, penso sempre a qualcuno che ha un ruore, e dentro dimentico, chissà cosa è bello, se stai bene, ecco. L'altra più profonda è, appena apro gli occhi, devo prendere assolutamente il caffè, o non dico una parola, ok? Questo. poi la seconda domanda hai mai odiato così tanto da a curare del male? allora io vedo che a curare del male non si deve mai a curare del male a nessuno sì però diciamo quest'anno diciamo così ho odiato e odio ancora oggi profondamente una persona ma siccome non è nella mente o male dire nessuno anche perché si dice tutto quello che spute in cielo ti torna indietro non mi piace tanto però quando c'è veramente una sofferenza di un certo genere che ti porta a studiare profondamente una persona vi dico cosa ho pensato sorrido perché è una cosa cattivella però non è una maledizione quindi ho pensato che se una si trovasse una bella festa con una bella diarrea e dovessi aspettare tipo un'ora per andare alla tua letta ecco giusto quella perché è una bella sofferenza però questo però vale dire no l'odio sì ma l'odio ce l'ho per l'altra ragione quindi piuttosto che si trovasse in una situazione a quanto direi spiacevole e non molto potisaggente per quanto vi vengono i crampi all'intestino vi voglio vedere che non avete il bagno libero bene terza domanda credi nella vita dopo la morte allora non voglio mettere in discussione religioni, fedi, cose di questo genere io credo che noi siamo neovolcro, noi siamo fatti di energia perché tutto si trasforma se parliamo di reincarnazione quindi si dovrebbe comunque parlare di una religione ma ad ogni modo reincarnazione no credo una trasformazione di energia, qualcosa che comunque non si consuma mai, non termina mai quindi un'energia gira da tutte le parti a livello di fantasia mi piacerebbe che succedesse come in quel film di Robbie William mi sembra che si chiamasse il giardino dell'Eden, una cosa di questo genere ecco mi piacerebbe che fosse così però ma nella realtà credo che noi siamo energia quindi credo che dopo uno potrebbe essere dopo il trapasso ovunque tutto si trasforma quindi l'energia rimane energia andiamo avanti andiamo avanti pensi che ogni cosa sia stata scritta allora io penso quando siamo nati non si sa bene qualcuno ha scritto qualcosa matita su di noi su qualcosa di noi matita e che poi crescendo facendo noi delle scelte giuste o sbagliate che si sono state abbiamo invertito e abbiamo cancellato con la gomma quello che forse doveva essere ma che poi non è stato perché in fondo la vita a destino ce la creiamo noi con le nostre decisioni le nostre scelte anche con le nostre sofferenze quindi penso una cosa di questo genere 5 che caldo che fa? no credi che se sei positivo ricevi positività positività questo per forza se sei positivo ricevi positività se sei negativo ma non è che ricevi è che l'altra persona lo sente quindi sentendolo sia lontana poi magari che ne so vai a prenderti un aperitivo tu sei tutto felice tra l'altro incavolata a morte perché non è andato bene qualcosa sul lavoro oppure con la moglie ed è negativo e a quel punto la tua positività non ha molto senso perché quello è meglio o non ti guardano o è meglio che non ti avvicini ecco però in genere credo sì che se sei positivo se sei positivo ricevi positività sì sei sei lasciamo perdere che magari gli stappi che faccio i reti nervosi no no siamo magari spugnetta allora ok sei tutte queste domande esiste l'amore eterno io direi parziale perché se penso per me allora l'amore per la mia famiglia ritengo una cosa eterna che sarà sempre eterna io non ho figli lo sapete ho i miei cugioni quindi lei ho mille pecchi e quella è un'altra cosa eterna non è che il momento che si perde qualcuno ecco finisce però tanto che l'amore è anche fra le persone nelle relazioni ecco lì non ci crederebbe assolutamente come amore eterno no diciamo che ci sono amori che non finiscono mai dovete presento prima nei sepolgri no di foscolo quando a un certo punto le persone che andavano in questo cimitero andavano e piangevano parlavano per più che altro parlavano questo perché secondo foscolo il nostro ricordato il nostro li mantenevamo in qualche modo in vita anche se non c'erano più ecco quindi non potrei dire proprio l'amore eterno credo l'amore eterno perché dovrei mettere di mezzo anche le relazioni quello che io credo che sia eterno credo eterno per la mia famiglia e per i miei cuccioli quindi sono un po' diciamo a metà credo a metà però una cosa c'è solo alla fine di vero di vero la cosa eterna ce n'è solo una che esiste però l'amore l'amore dura finché dura ossia l'amore dura finché c'è finché noi crediamo in quest'amore lo portiamo avanti anche quando non c'è più e questo sì ma se parliamo dei tempi di oggi della relazione tra uomo e donna ecco quello l'amore eterno no ok poi settima domanda esiste una cosa scusate una cosa fatta di cui fai fiero oddio non ho mai pensato questa cosa una cosa fatta di cui vado fiera ma penso che ti sia una cosa passata nel senso nel senso che già da quando ero quando ero piccola si fanno gli amici tutto quanto giustamente non mi sono io dico mai è passata anche se sono stata isolata perché certe cose ah se non le fai se non le provi allora non fai parte di un gruppo più di cento ecco non ci impegavo due secondi a prendermene e a considerare quella cosa una cosa stupida quindi ho sempre come posso spiegarmi cose di cui sono data fiera forse di me stessa appunto in certe situazioni mettermi di sopra delle forze a parte questo ma in generale direi no non riesco a farcela perché troppo forte invece riuscivo a farcela quindi a trovare delle risorse però proprio una cosa di cui vado a vivere veramente non mi viene in mente ok proseguiamo con tutti i nostri rumori della scala 8 hai mai partecipato a una seduta spiritica no 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 e non credo mai non credo che parteciperò mai questo perché allora non perché non ci creda no però sono un attimino pericolose sono pericolose perché comunque allora partiamo dal fatto che io ritengo che le persone che hanno fatto il trapasso dalla vita non debbano essere disturbate anche come energia soprattutto poi quando il periodo è da appena perché di solito le persone vanno a evocare i loro parenti quando hanno appena fatto il trapasso penso che la persona va ricordata dentro di noi ci puoi parlare così ma ecco no però sono pericolose perché perché di solito in queste sedute c'è sempre qualcuno che lo fa tipo ma vediamo se è una cosa che esiste che è vero quindi non ci crede quello è una cosa altamente pericolosa qualcuno che si spaventa spezza le mani quindi spezza la catena è altamente pericolosa terzo motivo diciamo che questo mia madre aveva partecipato quando era molto giovane io dico questo per chi ci crede o per chi non ci crede però vi garantisco che sicuramente mia madre è stata più che reale era andata perché per suo papà insomma come avevo detto prima c'è stato diciamo che cose che furavano in un certo momento qualcuno si è spaventato e hanno spezzato la catena hanno staccato le mani mia mamma si è terrorizzata oltretutto poi ha dovuto chiamare degli specialisti del campo esorcistico dicendo perché diciamo la situazione la persona che era intervenuta non era rimasta intrappolata che comunque è stata arrivata a posto di mio ronno praticamente questo condottiero spagnolo che era Emilia Zalata non era buono e gli aveva raccontato tutta la storia insomma la fine mia madre era morta per mano per mano sua perché l'aveva tradito insomma tutta la storia tra la successione tra veramente che mia madre ha visto le cose ruolare si è scaventata vi dico soltanto che in quel periodo è andata a casa non ha voluto dirglielo a mio papà ma aveva paura di andare in bagno oppure da sola per cui mio padre doveva andarci assieme ha preso un eserimento nervoso con la situazione quindi è di mio non esisterei mai quindi ho dato la terza spiegazione è molto così andiamo avanti 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 domanda numero nove se non ho perso niente no hai mai svelato un segreto no io non ho mai svelato un segreto e se l'ho fatto dico se l'ho fatto è perché non mi hanno detto che era segreto e che devo dire ma un segreto un segreto no decima decima domanda se vedi un carrofone fai gesti scaramantici no mi faccio segna della croce anche perché quando mi passa davanti un carrofone perché io sono fatta purtroppo così a parte farmi il segno della croce che mi sembra al minimo del rispetto ed è un segno di pace per la persona c'è un frangente come un flash che mi chiedo ma chissà chi era chissà se era giovane o meno come è morto chissà se si sente qualcosa non lo so questi pensieri quindi no mi faccio segno della croce prendiamo guardate ho una foglia questo regalo di Leo questo regalo di Leo che è praticamente di pomeriggio va sotto in cura dita e mi fa il regalo una foglia scusate respiro una fonda secca anzi due me ne ha regalate bene allora spero che non si senta troppo respiro ma mentre la protezione addio vabbè allora undicesima domanda ti fa il segno della croce quando vai in chiesa giustamente anche se in chiesa non vado non vado spesso anzi l'ultima volta che di solito vado in situazioni funerali matrimoni cose di questo genere in quello è un pensiero tutto mio quindi è meglio non approfondire comunque quando ci vado sì certamente vi faccio segno della croce dodicesima domanda all'occorrenza impreghi allora faccio sempre allora sì proprio l'occorrenza l'occorrenza impreggo e non impreggo poco dovuta questa una situazione io sono segno di fuoco perché sono sagittario e quindi segno di fuoco sagittario ascendente leone eccetera eccetera quindi fuoco fuoco sono pigliosa però forse perché poi io scarico tutto nell'attimo e due secondi dopo ho dimenticato tutto però sono pigliosa per cui quando serve impreggo poi 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 tredicesima domanda vorresti vorresti sapere quando morirai allora ninja allora io sono convinta di una cosa allora io vorrei sapere scusate quello che mi fa pure non è questa domanda cioè vorresti sapere quanto morirai più che altro se succedesse vorrei che nessuno me lo tenesse nascosto cosa che la mia famiglia farebbe per certo come comunque sempre fatto nei confronti della nostra famiglia stessa quindi vorrei mettere a posto magari delle cose so il tuo pensiero da una parte dall'altra so che vivrei male ovviamente noi siamo attaccati alla vita tutto quanto soprattutto vivi male perché perché se io fossi da sola così con la famiglia io vorrei che un giorno finisse tutti insieme insomma però vorrei che nessuno me lo tenesse nascosto ecco questo sì cercherei comunque un modo di affrontare la situazione soprattutto perché come diceva Leopardi le vere vittime non sono quelle che se ne vanno ma sono quelle che restano perché chi resta sopra ecco quindi diciamo così poi quattordici sei fissato con la lettura forse dell'oroscopo con l'oroscopo no per niente non l'ho mai guardato una volta la mattina nel senso che dell'oroscopo quindi dei segni zodiacali mi interessano i pianeti io grido ai pianeti non alle letture a oggi che uscirai no ai pianeti magari sono interessati in questo mese quale pianeta mi gira intorno se è un pianeta nano un pianeta giaccarellone quindi mi fa tutti i dispetti non mi fa una cosa dritta allora si ai pianeti si però comunque non è una cosa che faccio giornaliera ne li associo comunque alla tarologia però no i giornalini dove si legge l'oroscopo no assolutamente credo nell'oroscopo ma quello serio e non quello che apre il giornalino ed è giorno per giorno ecco poi quindicesima domanda l'abito fa il monaco no per me per me no no non c'entra niente uno si può vestire per moda per tante ragioni e poi la gente giubblica così comunque no per me l'abito non fa il monaco sedicesima domanda vorresti sapere un particoletto su di te e perché no se c'è se gira se circola se qualcuno lo fa sì e poi ovvio insomma dipende anche da pettegolezza se non vale niente quanto lo venga a sapere rimane lì se no voglio poter rispondere a questo pettegolezza anche se io non amo i pettegolezzi ma più che altro a volte mi fisso su su delle cose perché devo sempre il mio ma perché questo perché l'altro io come dice il mio padre da quando ero piccola il perché 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 ecco sì comunque sì vorrei saperlo e conoscerlo ti ho settesima domanda penso che questo è stato difficile un po' per tutti allora qual è il tuo poi io l'inglese sapete faccio schifo giuri to play su qualcosa che ami fare che vista strano quindi inconfessabile allora se io ho una cosa strana e qui vi rimarrà il punto perché se strana ed è inconfessabile io non la posso confessare a voi chiaro quindi qua finisce il video talk allora io vi do tutti quelli non so chi forse dei colleghi nuovi anche Erika Red che però forse l'ho già fatto anche lei perché non è proprio nuovissima e qui saluto perché ormai erano e di mesi fa sono io qui sono rimasta indietro colgo l'occasione intanto per fare gli auguri tipo un compliano a tutti quelli che l'hanno fatto in questo periodo come ieri anche a mia collega quindi mando un bacino alla nostra alla mia silvietta che è Lisa Grant ASMR e a tutti quelli che l'hanno fatto in questo periodo ma vedete che io su facebook devo riprendermi anche un po' lì è il tempo perché faccio tutto un po' cioè io vorrei fare i video rilassata ma rilassata nel senso di sapere che non ci siano rumori adesso per esempio ho mandato via ho mandato via nel senso che con ex ho mandato vecchi perché allora intanto ho detto che per chi non sapesse un posto anterior non appaiono mai sono degli avvisatori appaiono quando sente un rumore che non lo conosce è di difesa o se qualcuno viene qui sotto nel cortile si avvicina allora appaia e quindi non volevo anche quella allora l'ho mandata solo qui sotto avere un po' di passeggiata poi ho Leo che se vuole mangiare lui deve comunicare tutto per cui mi fa oh mia oh mia oltre il rumore della casa spero che non siano stati troppi perché a volte mi scappa non è che io non edito a volte mi scappa quel rumorino poi devo mettermi anche editare ma con Movimar che fa schifo scusate questo programma per editare già io non sono una cima figuriamoci vabbè allora io vi chiedo sempre chiacchiero 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 e ci tengo sempre il feedback di ogni video che faccio grazie ricordatevi giveaway allora il giveaway parte stasera a ore 18 io penso dato che non è una cosa così oggi siamo a martedì diciamo che entro sabato ci sarà il vincitore quindi io devo fare la giornata per fare il tutto se riesco mi faccio filmare per farvi vedere che io sono pulita quando faccio l'estrazione e il programma che gira quindi ricordatevi dovete fare massimo nei tuoi commenti nei commenti scrivere i vostri tre trigger preferiti comprate se in questi trigger volete il parlato e non il parlato bene io ho spiegato tutto allora io vi mando tanti tanti grandi enormi faccioni e faccetti vi ricordo chi vuole essere salutato non nel roleplay possibilmente almeno scriva sotto nei commenti perché il giorno che dovrò fare quel video di tutti i saluti ci sarà un video dovrebbe fare tre ore di video va bene allora io che spero che sia stata piacevole vi ricordo un'ultima cosa se vi avessi fatto a registrare la favoletta sull'altro canale che anche lì mi sono fatta già una tampa perché volevo chiamarlo Crystal aslo in itable smr invece poi è crystal on the in itable smr allora vi aspetto là perché i commenti devono essere sotto la favoletta che vi farò va bene allora facci passate passate un bel martedì magari qualcuno non lavora e noi ci vediamo presto ciao ciao cuori dolci ciao